Come Confindustria e dispositivi medici abbiamo riunito insieme pazienti, medici e soprattutto le istituzioni per iniziare a parlare di futuro della sanità, un futuro migliore che deve passare necessariamente attraverso una nuova governance dei dispositivi medici. Oggi sarà l'opportunità per ascoltare quattro storie di eccellenza che vengono dal territorio nazionale e avere l'opportunità di costruire un futuro affinché queste quattro storie possano essere e diventare la normalità anche per il futuro. Quali sono le sfide più urgenti, Presidente? Le sfide più urgenti sono sicuramente quella di definire la questione di superare il payback che oggi chiaramente attanaglia un po' tutte le aziende e in maniera parallela cominciare a parlare di futuro della sanità attraverso un nuovo modello di governance.